buon pomeriggio a tutti amiche e amici di betting channel torniamo con un video tutorial quest'oggi sull'automazione automazione di betting toolkit che sta avendo un successo strepitoso tra tra tutti gli utenti e richieste ogni giorno praticamente di informazioni esempi eccetera e quindi oggi con l'arrivo della stagione tennistica volevo farvi vedere una cosa veramente veramente succosa che si può fare con l'automazione di betting toolkit per quanto riguarda i match di tennis ci sono molti di voi appassionati sia a livello proprio sportivo sia a livello di operatività di trading di tennis e alcuni mi hanno detto ma io opero semplicemente sui match di singolo i doppi non non mi interessano ci sono ogni giorno infatti vedete oggi ce ne sono comunque una ventina di partite ma normalmente ce ne sono anche di più anche perché adesso mentre sto facendo questo video siamo nel nel pomeriggio e comunque dicevo ci sono parecchie parecchi match vedete che sono diversi singoli poi ci sono i doppi tipo questi arevalo pavice contro dubbiare bull eccetera eccetera e quindi oggi vi faccio vedere con l'automazione come si può di una lunga lista di match di tennis fare in modo che betting toolkit vi metta nei preferiti solo i match singoli di fatto filtrando ed escludendo i match di doppio vi ritroverete l'elenco dei soli incontri di singolo quindi allora vi faccio vedere come costruire l'automazione poi andiamo con ordine poi vi mostro come sceglierli e poi elaborarli e fare in modo che voi li abbiate nei preferiti preferiti che li trovate qui oppure anche tramite l'apposita funzione dal menu funzioni appunto e oppure anche premendo f2 ok allora andiamo con ordine apriamo l'automazione io ve l'ho già preparata e ve la mostro allora l'ho chiamata tennis filtra incontri singolo betting channel allora prima cosa facciamo creiamo la condizione l'unica condizione che ci servirà per fare in modo che betting toolkit capisca quali sono gli incontri doppi o i singoli e poi ci metta nei preferiti solo i singoli allora nella condizione abbiamo scelto la condizione volume scambiato volume scambiato abbiamo messo maggiore uguale a zero in modo tale che lui comunque prende in considerazione tutti i match di match che ci sono anche se hanno volume zero e poi su volume cambia scambiato nel criterio di dei parametri della selezione scegliamo nome che contiene nome che contiene e scriviamo lo slash questo slash e poi va bene naturalmente diciamo di considerare volumi maggiori uguali a zero ecco questa è l'unica condizione che ci serve perché lo slash perché se voi notate ora un attimo premo ok salvo e torno un attimo nel tennis notate che betfair praticamente gli incontri di doppio separa i due giocatori la coppia dei due giocatori con lo slash quindi noi gli diciamo vetting toolkit di andare a cercare appunto i match che contengono lo slash nel nome della selezione fatto questo andiamo a fare la regola che aggiungerà i match ai preferiti mettendo questa condizione numero esecuzione regola di verifica del doppio uguale a zero poi l'azione semplice di aggiungere ai preferiti vedete nelle variazioni c'è anche l'azione aggiunge preferiti fine fine questa è qui a priorità esecuzione due perché avevo fatto dei test facendogli fare anche altre azioni perché collegato a questo filtro si può creare anche tutto un intorno di automazione dove poi fargli fare anche delle puntate solo sui match singoli eccetera però comunque normalmente di default potete mettere come non assegnata e voilà l'automazione è questa qua la strategia è questa qua ora vi faccio vedere come applicarla ok allora salviamo qui la riduciamo un attimo ora cosa dovete fare dopo che avete preparato questa automazione andate su filtro mercati e scegliete il mercato di interesse cioè tennis vedete oggi ci sono questi 39 39 mercati comunque noi gli diciamo scegli di oggi o anche di domani come preferite intanto si è chiuso il match che avevo aperto sotto lo tolgo dalle scatole e ok scegliete per semplicità facciamo oggi scegliete tutti tutte le competizioni poi non so siete abituati a lavorare sull'esito finale cioè sul vincente mettete esito finale eccoveli qua vedete ci sono tutta una serie di match singoli e doppi tutti tutti messi insieme a noi però abbiamo detto interessa mettere nei preferiti i singoli per poi lavorare su di essi quindi voi fate così impostate come vi ho detto filtrate per sport competizioni tipo di mercato poi li selezionate tutti e li aggiungete al monitor mercati aggiungere 21 mercati sì e betting toolkit più a piano ve li aggiunge ok sono stati aggiunti ora potete richiamare monitor mercati cliccando su quest'icona qui e vi ritrovate tutti i match singoli e doppi insieme nel monitor mercati a questo punto anche qui li selezionate tutti poi andate su applica e applicate la strategia tennis filtro incontri singolo applicata vedete adesso vi allargo la finestra stato esecuzione play 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 avviata azione aggiunge singolo ok parcheggiamo giù monitor mercati anche filtro andiamo aprire i nostri preferiti scegliamo lo sport quindi tennis e voilà vi ritrovate tutti i match di singolo della giornata nei preferiti con l'indicazione della competizione e così via potete nei preferiti mettere le vostri promemori eccetera eccetera quindi avete visto è semplicissimo riuscire a filtrare una valanga di incontri e mettervi nei preferiti gli incontri di singolo ora volete lavorare su questi match monitor mercati ce l'avete nei preferiti fate così tornate su monitor mercati annullate appunto la strategia perché in questo momento è stata applicata e comunque quello che doveva fare l'ha fatto la annullate li eliminate quindi svuotate di fatto il monitor mercati tornate su preferiti li selezionate tutti e aggiungete solo i singoli monitor mercati a quel punto che li avete in monitor poi ad ognuno di essi applicherete la strategia di tennis che voi volete la strategia di tennis sul singolo che voi volete quindi ragazzi avete visto quanto è facile con l'automazione di betting toolkit fare delle cose straordinarie ce ne sono moltissime altre man mano ve le mostrerò per oggi vi lascio con questo video tutorial mettete mi piace seguite il canale perché ci saranno sempre via via delle belle novità e questo file naturalmente lo troverete nell'area clienti per tutti coloro che hanno una licenza attiva di betting toolkit ciao a tutti e buon match di tennis ciao a tutti Grazie a tutti